Andare sull'elicottero ha stato, mamma mia, incredibile. Voglio sentire le tribune a Misano, Aprilia All Stars. La cosa più bella è che ogni anno la comunità Aprilia cresce di più in tutto il mondo. Achille Lauro sale adesso con Max Piaget. Bellissimo perché si vede dei piloti di MotoGP. Adesso mi sembra di essere un pilota ufficiale. Il Corsaro conquista la sfida con le Aprilia SRGT. Mi avevi chiesto quante saranno ma è impossibile contarle. Sono veramente troppe.